Ciao a tutti amici benvenuti e bentornati su Dead Island 2 Gold Edition Come al solito vi sono volo spiegare e benvenuti in questo video Mi raccomando amici come sempre supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina di Instagram, Facebook, gruppo, Telegram Sapete già, tutti i links sono in descrizione come anche in descrizione la playlist di questa Che è una fantastica serie E in descrizione anche Instant Gaming, una piattaforma per comprare giochi tipo questo, ma prezzi scontati Allora, siamo qua, siamo qua Mi sono dimenticato una cosa, la statuetta Passa le puntate e mi dimentico ma prima o poi ve la farò vedere, non vi preoccupate Ora però andiamo a vedere le missioni pulire e ripulire Perché giustamente, come avete scritto anche nei commenti E Amon, fai mi raccomando, anche le missioni secondarie che sono importantissime Alcune le abbiamo fatte, vedete Però ad esempio c'è pulire e ripulire Il ragazzo che pulisce le piscine, Obi, si è vendicato di un cliente maleducato rubandogli un'antica spada Segui la scia di indizi nel suo ultimo giro delle piscine di Beverly Hills e prenditela Sti cavoli, io voglio provare Caccia Eva cosa c'è qua Voglio provare E certo E voglio anche uccidere un po' di zombie maledetti Che ci sono Non fa mai male uccidere gli zombie Non fa mai male Allora, pasterino, entriamo qua Dobbiamo andare qua? Sì Dai vieni qua, qua Guarda, c'era l'acqua anche Fatta apposta A parte che non è che è servita tanta l'acqua Però, vabbè Oh E qua Eccolo lì, l'ha presa eh Ma non ha fatto in tempo il maledetto Quello mancato Però adesso abbiamo delle armi più o meno buone Più o meno buone Oh, allora, andiamo qua Oh, qua stavano giocando addirittura a pallavolo Pallavolo si fa per dire Beach Volley Si fa per dire anche Beach Volley Però avete capito Bisogna seguire le tracce Segui le tracce tra le piscine di Beverly Hills Quello è vivo Ce ne freghiate Guardate qua Oh Aia Maledetto Dobbiamo seguire le tracce Solo che È maledetto anche Guarda questo Che esce da qua Maledetto To La grande Allora, andiamo di qua Io vorrei capire Senza poi affrontare Milioni di zombie Forse non dovevamo farlo Aspeto Eh, no No Direi che non dovevamo farlo Siamo entrati in un'area Sto cercando le piscine lì Ma Probabilmente Pezzato di brutto Nel cercarle Probabilmente Qua c'è una piscina Però Caccia Eva Dove cavolo è? Guarda cos'è veloce questo qua Ma qua ci sono delle piscine Ma non è La piscina che Che ci serve Probabilmente Non è la piscina che ci serve Spero di non farmi male No? Dobbiamo andare di là Niente va Bisogna uscire E probabilmente andare nella strada Perché di là Di qua riusciamo a fare un No eh Ancora un altro zombie anche qua Ma muori male Adesso facciamo punti di esperienza Che non è male Però Dobbiamo andare ancora di qua Allora Poi a parte che Ah ma basta che apri la mappa E penso che lo vedi Dove devi andare Dunque credo di aver trovato la strada Alla fine basta usare Sì la mappa Che Non mi piacciono le mappe così Cioè sono belle sceniche Ma poco utili Però Probabilmente da qua Si esce Sì Infatti Vedete che Siamo praticamente All'uscita E abbiamo fatto tutto il giro In sostanza Per cui possiamo andare Urlatore no Caccia Eva Maledetta Beccati sto qua Tu beccati qua Tirata malissimo Maledetta Ma io devo fare la puntata Maledetta Di un urlatrice Guarda qua Caccia Eva Via Guarda quanti ne ha richiamati Sti Sta maledetta Dammi qua questa To 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 Eh ancora vivo questo Via Eh questa qua Via 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 Maledetta via To Hola Qua abbiamo Una revolver C'è una revolver Ah Allora Recicliamo qua Recicliamo qua Facciamo un po' di spazio C'è Una revolver Abbiamo trovato Una pistola Ora va bene Siamo qua Finalmente è apparso L'indicatore Che ci piace Questa roba interessante Che ci può essere utile Andiamo da questa parte qua Uè C'è stato un casino Ma Fai niente Maledetto Utila Uè Esplode tutto Via Vieni qua Vieni qua Vieni Guarda che ti tiro addosso Vieni qua Col caccia E va l'elettricista L'elettricista Forte Giustamente con la corrente elettrica C'è qualcuno dietro No Un sacco di roba Compreso delle chiavi Che non ho visto di che cosa Ma fa niente Questo casino Con calma Qua c'è casino Però forse dobbiamo andare di qua Qua c'è una porta Qua c'è un quadro elettrico I zombie il cui nome è contrassegnato con un teschio Sono letali Ti faranno a pezzi se non fai attenzione Ah proprio così Va bene Oh Mancato proprio di netto Maledetti Guardali qua Però adesso abbiamo delle armi Per pirola revolver E stiamo raccogliendo anche armi importanti Cosa è sto casino Wow Questo mi sa che è uno zombie letale Forse Non lo so Penso Cosa fa? Cosa fa questo qua? Ho paura di questo qua eh Sinceramente È stato più facile del previsto Ok ma qua non c'è una mazza Se non questo Ma non ci interessa Cioè lì sono partito per fare Questo gioco è così comunque Questo gioco parti per fare una missione E ne fai altri Cioè ne fai altri In realtà non l'abbiamo manco mai fatta adesso La missione Perché può essere un problema Uno vuole fare una missione Non può farla Mi stai dicendo questo Maledetto Caccia Eva vai Curati subito Eccolo ciò Ok Più la barretta Tutto tutto Cavolo qua le esplodevano Non mi sono manco accorto Cioè esplosa addosso Meno male che abbiamo la vita lunga Per capire dove doveva andare Forse qua 60 metri Direi di sì Possiamo stare 60 metri 12 50 metri Quindi dentro di qua Meno male Siamo finiti nella missione principale Cioè giro missione principale Andare a vederne la piscina Niente torno alla missione principale Comunque avevo capito una cosa Cioè Stavo seguendo questa Che assomiglia come Guardate Sbagliato Scusate Assomiglia come Ma è diversa C'è proprio vedete Il Quel coso qua Il problema Che non è uguale a questo Il problema che qua vedete Non c'è questo Perché Lui dice di andare Vi faccio vedere Che cavolo anche qua Che la mappa Non è collegata alla missione Cioè Vabbè Vedete che qua dice Di andare a Beverly Hills Per cui Cioè Bisogna andare Assolutamente a Beverly Hills Ora A Beverly Hills Qua Vediamo di capirci qualcosa Nella mappa Qua dove vai Non c'è scritto Dove siamo qua Cioè Voi vedete dove c'è scritto Io non lo vedo Però comunque qua Dice Vedete Beverly Hills E qua Missione disponibile Uno E noi siamo qui Bel Air Dovremmo andare all'Alperin Hotel E poi andare a Beverly Hills Non possiamo fare viaggi veloci Ok E Comunque sono collegate così Vete House E la missione Così Il problema è che qua Per andare a Beverly Hills Bisogna capire Dove Dove muoverci Probabilmente Dobbiamo uscire Vabbè Lo faremo Lo faremo Non c'è problema Però Poteva essere fatto Molto diversamente Sta cosa qua Però c'è Cioè È servito per capire Un po' come funziona La meccanica Sì va bene Ciao 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 Va bene Sì 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 Già perso troppo tempo Quanto è Andiamo qua Dai non è niente No No Dai No That no Ema You know What's gonna happen To him The same thing That happens To all of them Now let me This is my è il mio regio, Sam. Vai! Se si guarda tutto questo che è divertente, tu... sai cosa devi fare. Ok. Michael, cosa succede? Non sei bene. Non sei bene. Vi farvi l'aide, ok? Emma, vieni. Non ne pensi mai. Ti ho preso. Ti ho preso. Ti ho dato questo. Poi l'idea. L'idea. Il 2019. Il migliore di supporto... Romero, vi ricordo, è il regista di zombie, ad esempio, che ha inventato un po' il genere. Emma. Credo che ho il sangue speciale. il sangue speciale. E' un proof zombie. Ma... Adesso vedremo se sei a prova di zombie. No, mi sa che... Michael. Michael, per favore. 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 Caccia io... Si era trasformato. Ma... Questa, ma ce la fai o no? Emma. Oh. Eh? Scusate. Vai fuori dal mio casa. Bella arrabbiata. Ok, nuova scheda ammazzalondi sbloccata Allora, innanzitutto abbiamo una nuova carta Allora, vediamo un attimo Perché qua c'è una bellissima carta Ti piace staccare gli arti? Stacca l'arto dallo zombie Quindi lo mutiliamo per recuperare salute Interessante, lo mettiamo subito Ok, allora Adesso abbiamo una nuova missione Stare giù per il tubo Che è questa Questa è il DLC e questa è quella che Seguiamo però la missione principale Per ora Oh, ma no Oh Non ho detto che sono sicuri Ma tu puoi lineare L'ho capito Tu sarai tornato Ehi, Emma è abbastanza Ehm, come potresti rinforzare Cosa di questa madre di Yorkshire Pudding Che piace Questo È l'ultimo Ma Non lo so Però batteria Potrei lanciarla qua Lanciala sta batteria Maledetto Cacceva Tutti li ha chiamati Tutti li ha chiamati Eppure quello grosso Vai via da qua Vai via 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 Toh Però è morta L'urlatrice Mi sa Via Oh Un po' di casino È stato fatto Niente Non l'ho neanche preso Neanche per scherzare Ehm Sti cavoli Che Che cattiveria Amico Che cattiveria Ehm Cos'è sto casino Cos'è il contaminatore Ma che è Via Via Poi qua Ha lasciato giù Una balestra Bebe Stai tranquillo Sta easy Uomo Sta easy Dai mettimi Vai Troppo lontano Brava Wey Oh Ti raccolpi Questo qua Ok Dammi questa Via Sempre dietro Oh Muori male Muori male Qua c'è la batteria Qua c'è Allora Andiamo a vedere Inventario Quanto abbiamo La nostra 148 Fa schifo questa Confronto di una balestra Questa qua Però abbiamo L'inventario pieno Io farei fuori Questa è la più schifosa Anche se l'abbiamo potenziata Ma recuperiamo i materiali Prendiamo questa Il problema qua No possiamo aprirla Non serve Ma perché Amo Stai facendo Stai facendo Un casino Di sta puntata Cioè Questa puntata La puntata del fail Come ogni serie Non so se avete notato C'è almeno una puntata Del fail Faccio Ed è questa In questa serie Speriamo che non ce ne siano più No Te Qua ce n'era un altro To Abbiamo fatto un casino Guardate lì Questi sono ancora vivi L'arma si è rotta Brutta storia Sta succedendo un casino Ma non gli sva niente Oh Ma dobbiamo andare di qua È chiuso Dentro di là Maledetto Che cavolo Non ti lascia neanche mirare Sto maledetto qua Sto elettricista qua Del cavolo E ti fa un male boia Oh là Eccati sto colpo E taci Mi sa che abbiamo fatto Uno il casino lì Buona 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 Tutta sta roba qua Però Dobbiamo andare Dall'altra parte di lì E qua Si apre dall'altra parte Però qua c'è Ci sono dei bancali Lì Forse Forse E ripeto Forse Può fare questo lavoro qua Sì Qua si blocca Ma siamo finiti Dall'altra parte Ma c'è un'arma Che non è Sto Il princhino qua Nel cavolo Il princhino Ora E provare questa Ma non l'abbiamo potenziata Mettiamoci questa Bene Qua non si va Da nessuna parte Qua si può aprire Qua Questa è chiusa Lì non c'è niente Oh Spenta luce di colpo Mi sto spaventando Come on Allora Mi sa che Il rumore Che cavolo è Sto coso E chi è questo qua Adesso Wow Wow i detonatori ciao quanta varietà di zombie ci sono fotti io però guardate qua questo c'è un appartamentino nelle fogne è fantastico è tutto rovinato in faccia è successo bruciati forse gli è esploso uno di quelli lì ma dopo la guerra ok durante la guerra si è fatto male ha avuto quel problema è il coso di emma ma guardate la stella di emma c'è questo è pazzo comunque ecco 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 ne ho un fottio tra l'altro di DVD almeno Blu-ray amico vabbè servo per un vaccino gli ha detto poi c'ha la gopro qua ma perché Cosmic intruders il gioco vabbè vabbè cosa mi devi dire wow c'è un pazzo totale questo qua però probabilmente abbiamo sbloccato lo shortcut adesso immagino per le fogne sicuramente ecco qua infatti quindi se noi andiamo qua adesso infatti guardate questa è una signora mappa fatta già molto meglio e qua abbiamo la fogna vedete è stata aggiunta quindi sei dei dodici luoghi tra l'altro ok dobbiamo farci un po' l'occhio il problema è stato sicuramente il fare il DLC mentre stavamo giocando che però dobbiamo tornare per finire per fare quel mostro là eccetera eccetera ma lo faremo ma andremo avanti da qua mi raccomando però supportate questa serie con un bel mi piace commento e una condivisione iscrivetevi al canale se siete già iscritti attivate la campanella pagina di stan facebook gruppo telegram sapete già tutti i link sono in descrizione come anche in descrizione alla playlist questa fantastica serie in descrizione anche Stan Gaming che è un sito dove comprare giochi a prezzi scontati seguite il link che trovate qua sotto nella descrizione del video da Amorius è tutto e ci vediamo al prossimo ciao a tutti